Provincia di Treviso. Se la vedi ti innamori. Eccola qua. Queste sono le sue aiole. Falciate ieri. Non si sa da chi. Questa è quella centrale. Questa è quella laterale. Guardate la bellezza dello sfalcio. Provincia di Treviso. Se la vedi ti innamori. In fondo non l'hanno falciata. Questa nemmeno. Ok. Qua siamo al tempio di Ormelle. Provincia di Treviso. Se la vedi ti innamori. Dicono. Tempio per sicurezza. Eccolo qua.